ciao ragazzi sono tornato a fitzgerald park questa volta lato nord per farvi vedere lo shaky bridge hanno finalmente riaperto lo shaky bridge e adesso ci andiamo una volta fatto il ponte vedete qui dietro di me praticamente si arriva direttamente a fitzgerald che è esattamente da quest'altro lato quindi basta scendere il ponte e si arriva al parco più grande di cork che anche oggi è splendido ma come si dice in francese c'è un friddi di muadere